vi presento la novità che appunto presentiamo in fiera si chiama duotec è un prodotto che sostituisce il mondo delle ancorette ma in realtà fa molto di più perché è possibile applicarlo anche con carichi sulle pareti in cartongesso come funziona si fa un foro da 10 mm si inserisce totalmente il tassello il tassello si auto posiziona e grazie a questi dentini evita la rotazione la boccoletta fate finta di avere qui la vostra lastra di cartongesso muratura la boccola viene piazzata alla giusta distanza imbattuta con la lastra stacco la mia aletta e io ho pronto un fissaggio anche con carichi abbastanza importanti sempre su lastre in cartongesso grazie a tutti